buongiorno ragazzi benvenuti alla nuova sessione di box per cui dopo i classici 10 minuti di riscaldamento oggi faremo due riprese di vuoto la prima sarà soltanto gaccio sinistro gaccio destro in movimento 1 2 ok dopo un minuto di pausa faremo la seconda ripresa che saranno spostamenti del tronco a sinistra gaccio sinistro spostamenti del tronco a destra gaccio destro ok per cui stiamo portando avanti il lavoro della volta precedente dopo queste due riprese di riscaldamento faremo una bella ripresina di corda che i pesetti li può prendere e iniziamo a saltare ok mettiamo i gomiti sopra le spalle e ruotiamo dall'interno all'esterno le nostre mani una ripresa da 3 minuti di veretta e corda per cui o si simula o si salta la corda in casa in base allo spazio che sia che è più fortunato che sta in un giardino o in un cortile riuscirà a fare benissimo questo tipo di lavoro poi mettiamo ai fasci i guanti o prendiamo i pesetti andiamo al sacco al muro oggi lavoreremo sui colpi doppiati per cui partiremo da gancio sinistro vi ricordo sempre rotazione pallone anche a spalla gancio sinistro al viso richiamo mi siedo leggermente e porto il gancio al corpo per cui sarà 1 2 ok doppiamo gancio sinistro viso corpo richiamo seconda ripresa gancio destro viso richiamo leggera flessione corpo ok viso corpo ricordo sempre che per i ganci al corpo vanno portati col pollice verso l'alto non fate le rotazioni sono le schiame parcivale all'arco scelta rotatore dopodiché faremo la terza ripresa e metteremo diretto sinistro gancio destro il viso gancio destro al corpo 1 2 3 richiamo ultima ripresa diretto destro gancio sinistro al viso richiamo gancio sinistro al corpo per cui queste sono le nostre quattro riprese consiglio sempre poi dopo alla fine di fare una o due riprese in ruoto per cui sappiamo troviamo sempre la nostra tecnica al corpo al viso doppiando i ganci mettendo tutti i colpi fino ad oggi abbiamo lavorato ovviamente se qualcuno di voi ha un bagaglio di esperienza più ampio farà molta più roba o metterà le sue varianti alla fine di tutto saranno sempre addominali almeno 300 un bello stretching fatto bene su tutto il corpo per cui gambe e braccia tronco e vi ricordo di mandarci i video di rivedere tutti i nostri video sul canale youtube e vi aspetto alla prossima sessione ciao ragazzi ci vediamo